Maleducati, non ve lo chiamo in bordo, non sono maleducati, ma mi dovesse essere maleducati e mi andò a far curati o per i coglioni, ma maleducati, dire che ci ne andrò, ma ti conviene essere coglioni e dire semplici maleducati e mi voglio dire che facevano subire la stupita di chi ne rompe i coglioni, però cercate anche di offendere con rispetto oh yeah oh yeah